Per quanto riguarda il Governo dei flussi migratori, anche qui ci troviamo d'accordo. Siamo d'accordo sul fatto che vada consolidato il nuovo approccio europeo che si è sviluppato in questi mesi, anche grazie all'impulso dell'Italia che si basa su alcuni pilastri, cioè la difesa dei confini esterni dell'Unione Europea, il contrasto all'immigrazione illegale di massa, la lotta ai trafficanti, l'impegno a costruire con le nazioni di origine e di transito un nuovo modello di cooperazione e parternariato che sia vantaggioso per tutti, anche per andare alla base delle cause della migrazione, ma siamo anche d'accordo sul fatto che sia importante sperimentare nuove forme e nuove soluzioni innovative in materia di immigrazione. Cito, come ho già fatto, il protocollo Italia-Albania che, come voi sapete, è diventato oggetto anche di una lettera firmata dalla maggioranza dei Paesi membri rivolta alla Commissione che chiede di portare avanti questo approccio anche per il futuro, definendolo una soluzione da seguire. Insomma, ci sono chiaramente, come spesso accade, molti temi sui quali siamo d'accordo. Voglio ringraziare il Primo Ministro Ungherese per averci fatto questa visita.